E' un'epoca, sono trollessi, che andate a stare l'idea da me, da me, da me, da me, da me, da me... Oh, yeah! Vai, 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 vai... Passé, poi, vai, 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 vai... Sono scegliate un giro per riscu devono In un suo scegliatore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.